Musica Decisamente argomento, nella verde toscana forse è sbocciato un nuovo amore, quello tra Sara Ferguson, la duchessa di York e un nobile discendente niente di meno che del conte Ugolino. Sentiamo Marina Coe. Amo la Toscana, dice, perché mi piace la gente, il cibo, la campagna. Sara Ferguson, duchessa di York, moglie divorziata del figlio della regina Elisabetta, Andrea, in Toscana ritorna spesso. Oggi ha passeggiato per le strade del borgo antico di Castagneto Carducci. Amore per la Toscana o anche per un toscano, il conte Gaddo della Gerardesca. E' lui che recentemente l'ha accompagnata in vacanze in Argentina, e' lui che l'ospita in questa villa di famiglia, dove in giardino c'è la statua dell'antenato reso famoso dai versi di Dante, il conte Ugolino. Sara dice che con il suo nome e la sua notorietà vuole rendersi utile per sostenere cause a favore dei bambini e dei malati, come faceva la principessa Diana. E' una mamma che lavora duramente, Sara Ferguson. Finiti i soldi del divorzio, non è rimasto nulla, la corte inglese, si sa, non brilla per generosità. Sara, dice, può contare solo su se stessa, e adesso forse anche su Gaddo della Gerardesca. A lui chiediamo con quale aggettivo definirebbe la sua amicizia con la duchessa di York. Fraterna. E' sicuro di dire la verità? Non le piace? No. Ma di più non posso dire. Grazie. Grazie.